Buongiorno ragazzi, buongiorno, guardate che giornata il 29 di novembre Bellissima, bellissima giornata oggi Nuvole sembra che non ci sono, in giro l'orizzonte La signora che costruisce qua Chepura da Tamarea Io penso che ce l'abbiamo, 25-26 gradi oggi, penso di sì La signora che non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono Ah che goduria ragazzi, veramente ve lo giuro Lo so che vi faccio invidia, lo so Però così, almeno vi faccio vedere la giornata fantastica che è oggi Sicuro si riempierà Di quello che c'è di gente si riempierà la spiaggia sicura Sono le 10 Che goduria di giornata, mamma mia Non so cos'è questa cosa Ancora non l'hanno aperta, bu non lo capisco cos'è Vediamo quando la apriranno Non so cos'è la spiaggia sicura Ok ragazzi Monto sto video e ve lo mando Vi auguro una bella giornata A tutti Grazie a tutti Grazie a tutti